Gentili telespettatori, buona giornata. Palazzo Chigi, cioè la presidenza del Consiglio, Mario Draghi, sarebbero preoccupati per Enrico Letta. Vediamo il retroscena, che cosa ci racconta. Il Partito Democratico ormai è guidato da Letta ed è in caduta libera. I numeri di porta a porta nell'ultimo sondaggio di Bruno Vespa vedono e certificano ormai il sorpasso definitivo di Fratelli d'Italia sul Partito Democratico. Rispetto alla rivelazione di Antonio Noto del 20 maggio scorso, la novità è proprio il sorpasso di Fratelli d'Italia. Il partito della Meloni aumenta dello 0,5 e arriva al 18,5, mentre il PD rimane fermo al 18. Letta, spostando il baricentro del Partito Democratico a sinistra, con le sue incredibili 24 priorità che abbiamo ascoltato fino adesso, che non hanno nulla a che vedere con la condizione degli italiani attuale, economica, sociale, ma tutte delle priorità di sinistra, estrema sinistra, che nulla hanno a che vedere e che nulla spesso interessano agli italiani, perde i voti moderati. Come dice Giorgia Meloni, ho sentito parecchi elettori del Partito Democratico che sono scontenti e che vedono nel partito di Giorgia un'alternativa, un'alternativa concreta. Beh, Enrico Letta, spostando il baricentro del partito, come dicevamo, verso sinistra, perde dei voti moderati, ma se rimane al centro non prende i voti dalla sinistra. Lui voleva tenere i voti del centro e prendere in più quelli della sinistra, invece spostandosi a sinistra sta perdendo quelli del centro. Però lui ha le belle pensate, lui pensa ai diciottenni cercando di dargli 10.000 euro. E anche l'ex segretario Nicola Zingaretti starà ridendo ma di gusto, sapete che lui già ride, no? Con la faccia un po'... starà ridendo di gusto, come dire guardate chi è arrivato al PD, pensavamo fosse diverso, guardate cosa sta combinando. Perché perlomeno Zingaretti lascia il PD a oltre il 20% e Enrico in poco tempo è riuscito a portarlo tra il 16% e il 18%. Alcuni sondaggi addirittura lo danno al 14%. Zingaretti dice lo zinga, io penso che è un momento molto difficile e sotto i baffi ride. E questo partito sta lottando in una situazione politica complessa. Caro Zingaretti, il partito non sta lottando in una situazione politica complessa, è che ha un capo dei Dem che è veramente... non so... io non sarei riuscito a trovare uno peggio di lui, ma manco se ci mettessi tutto l'impegno del mondo. Avete trovato veramente il capo politico peggiore che potravate... se mettevate Bonaccini, il capo, il presidente della regione Emilia Romagna, a quest'ora il partito sarebbe oltre il 20%. Bonaccini era quello giusto, ma quello giusto non avrebbe mai detto queste 24 priorità di Letta, mai e poi mai. Avrebbe sicuramente dato le sue priorità, ma priorità concrete per gli italiani. Invece no, hanno voluto mettere Letta per giochini interni, fermare Renzi, le correnti e beccatevi il professor Letta, e beccatevi il professor Letta. Infatti, come si dice Salvini, Berlusconi e Meloni, dormono sonni tranquillissimi. Prima di addormentarsi pensano un meno, un male che Letta c'è. Beh, è così. Per quanto posso, io aiuto Enrico, dice Nicola Zingaretti, a portare avanti questa battaglia. Zingaretti, dovresti aiutarlo in altri sensi, perché non c'è nessuna battaglia. C'è una persona che è totalmente inadeguata a ricoprire un qualsiasi luogo posto politico. E così a Palazzo Chigi stanno vivendo con una certa preoccupazione le disavventure di Enrico Letta. Da un lato per via degli sbandamenti di linea politica del segretario Dem, sempre troppo poco allineata al governo, e dall'altro per la perdita di peso del Partito Democratico all'interno della coalizione, che sommata alla totale inconsistenza dei Cinque Stelle, non fanno altro che spostare l'asse dell'esecutivo verso destra, scrive Italia Oggi. Nel PD, inoltre, scricchiolano Franceschini tacce ma non acconsente. Bettini appoggia il referendum della Lega dei Radicali, mentre base riformista, i comunisti, guidati da Guerini, quello che non fa la guerra, è in fermento e non ha affatto approvato molte delle ultime mosse del segretario. Ma chi approva le mosse del segretario? Ma dai, su, non ci credo che nel PD appoggino le 24 priorità di Letta. Mi piacerebbe fare un confronto con i politici del PD e dirgli queste sono le priorità di Letta. Provate a dirmi che sono delle cose sensate, provate a spiegarmelo. Sarebbe difficile, giusto? Infatti i politici del PD, quando vanno ospiti in televisione e i conduttori gli chiedono conto delle idee di Letta, non sanno più da che parte girarsi. Però vanno lo stesso in televisione, perché la televisione è la televisione, perché Sanremo è Sanremo e la televisione è la televisione. Mai rifiutare un'ospitata. Mi chiamano in televisione, mi conoscono, sono un VIP, ma ti chiedono delle priorità di Letta e vabbè, in quel momento cercherò di dire qualcosa. La resa dei conti sarà ottobre con le comunali. Il punto sarà Roma capitale. Se non ci sarà la riconquista per la segreteria di Enrico Letta saranno problemi. Ricorda sempre il quotidiano Italia oggi. Un cammino irto e setoso e pieno di difficoltà, quello di Enrico Letta, che rischia anche di essere fermato sul nascere. Ma io vi chiedo, cari piddini dirigenti, anche se Letta perde le lezioni a Roma, lasciatelo lì, perché dove lo troviamo un altro come Letta? Meno male che Letta c'è, ci fa fare dei video divertentissimi. Ho fatto 24 video solo sulle priorità di Letta, dalla prima alla 24, 24 video da 8 minuti. Adesso non so quanto fa, ma dovrebbero fare circa quasi tre ore a parlare delle 24 priorità di Letta. Credo che sarò stato l'unico ad aver parlato per tre ore delle priorità di Letta. Però, beh, non è che sono proprio queste grandi soddisfazioni, insomma. Grazie a tutti quanti e ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video qua sul canale. Arrivederci e grazie. E ricordatevi, meno male che Letta c'è.